Nonostante condividano il luogo di provenienza, le differenze tra Shiba e Akita sono importanti e fondamentali di fronte ad una possibile adozione. Per questo, se state pensando di adottare uno di questi cani, è bene sapere quale razza si adatta meglio alle vostre esigenze, o semplicemente guardare il nostro video di Animalpedia per conoscere curiosità, caratteristiche e differenze di questi splendidi animali. Sia lo Shiba che la Akita sono cani di origine giapponese e di ascendenza molto antica. Per quanto riguarda lo Shiba, sono state trovate ossa che risalgono a 2500 anni fa. Lo Shiba è sempre stato fin dalle sue origini un cane da caccia di animali più piccoli. Oggigiorno, entrambe le razze sono impiegate principalmente come animali da compagnia, anche se la Akita viene anche usato come cane da difesa e da guardia. Le prove dell'esistenza della Akita sono più recenti, si parla del XVII secolo. L'Akita è nato come cane da combattimento e veniva utilizzato quindi per lottare contro altri cani, quando fortunatamente questo costume perse di popolarità si iniziò ad impiegare gli Akita nella caccia grossa. Lo Shiba è un cane di tipo Spitz, di taglia piccola. Gli esemplari si attestano di solito tra gli 8 e gli 11 kg, con un'altezza algarrese di 35 a 41 cm. Di fatto sono la razza di cani giapponesi più piccola. La testa dello Shiba è piccolo ed ha occhi anch'essi piccoli e di forma triangolare. Lo Shiba ha un muso appuntito in alcuni casi, con il tartufo nero. Le orecchie sono triangolari, molto piccole ed erette. Gli Akita Inu sono la razza di cane giapponese più grande, misurano tra 60 e 71 cm algarrese e pesano da 34 a 50 kg. Il muso è più lungo alla base e si assottiglia verso la punta, dove termina con un bel tartufo nero. Il suo corpo è robusto, si tratta infatti di cani molto forti e potenti. La sua coda è robusta, un po' più lunga di quella dello Shiba e molto pelosa. Il pelo in entrambe le razze ha due strati e si ammettono varietà di colore, anche se il classico è color miele. Il mantello permette loro di vivere in climi freddi. Gli Akita sono cani che stanno bene all'aperto, vista la densità del loro sottopelo. Lo Shiba Inu è un cane giocherellone e adatto ai bambini, a differenza dell'Akita Inu. Inoltre è un cane affettuoso ma indipendente. Entrambi i cani sono consigliati per quelle persone con esperienza con i cani, non solo nel prendersene cura, ma anche nella loro educazione. Lo Shiba Inu è un buon cane da guardia, seppur, come il Basenji, abbai molto raramente. Preferisce mettere un simbilo particolare, con gli sconosciuti, può mostrarsi timido. L'Akita ha un carattere più diffidente e riservato e non è la razza migliore per star con dei bambini. La sua forte personalità potrebbe darci qualche spavento. L'Akita, nonostante ama il suo tutore, mantiene sempre una certa distanza affettiva e sono rare le dimostrazioni di affetto. È un cane che sembra imperturbabile. L'Akita è più territoriale e aggressivo dello Shiba e può avere problemi soprattutto con i maschi. Non è raro che gli Akita siano coinvolti in zuffe e combattimenti. L'Akita condivide con lo Shiba all'istinto di guardia, ma è più timido, con gli estranei si mostra diffidente e sospettoso. Lo Shiba è un cane attivo che ha bisogno di molto movimento per poter bruciare energia fisica e mentale. In caso contrario, potreste ritrovarvi con un esemplare eccessivamente nervoso che potrebbe manifestare problemi di comportamento. Si consiglia di offrirgli almeno tre passeggiate di mezz'ora ogni giorno. Quanto all'igiene, per lo Shiba basta una spazzolata ogni tanto per mantenere il pelo lucido. Il bagno va fatto solo quando l'animale è veramente sporco. Per quel che riguarda l'Akita, si tratta di un altro cane che necessita di buon movimento. Più che l'esercizio intenso, però, gradisce lunghe passeggiate. Dalle sue tre uscite giornaliere, almeno una si deve prolungare per più di un'ora. Dando loro le giuste stimolazioni fisiche e mentali, entrambe le razze possono vivere bene in appartamento. Nel caso dell'Akita, anche se non ha un pelo particolarmente lungo, è necessario dedicare del tempo per spazzolarlo con regolarità. Quotidianamente, ancora meglio. Infine, va ricordato che l'Akita è inserito nella lista delle razze considerate potenzialmente pericolose. Questo implica determinati requisiti per poterlo adottare, come aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile e l'obbligo di uscire sempre con guinzaglia e museruola. In generale, entrambe le razze godono di buona salute, soprattutto se gli si offrono le cure adeguate, gli si dà un'alimentazione equilibrata e si seguono i calendari delle vaccinazioni. Lo Shiba Inu ha una speranza di vita tra i 12 e i 15 anni. La Akita Inu ha un'aspettativa di vita un po' più breve, di circa 10 o 12 anni. Inoltre, come quasi tutti i cani di grossa taglia, la Akita tende a soffrire di varie malattie legate alla razza, come l'artrosi o la torsione e dilatazione dello stomaco. Possono anche presentare problemi cardiaci. Infine, bisogna stare attenti con il peso e la quantità di cibo, perché sono cani golosi che tendono ad ingrassare. Dicci, stai pensando di adottare una di queste due razze? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!